In termini burocratici direi un atto dovuto, ma in realtà non è così, è qualcosa di più, è qualcosa di meno formale, nel senso che pur essendo una delibera di giunta è stata fatta con lucido sentimento, nel senso che tutta la giunta sin dai primi istanti di questa tristissima pagina di storia della Calabria ha deciso subito di personalizzare su Iole non solo i progetti di Iole, non solo i sentimenti su Iole, ma proprio questa casa dei calabresi. La casa dei calabresi diventa la casa dei calabresi e di Iole che i calabresi li ha amati e li ama. Da questo momento non c'è solo l'ufficio del Presidente che è l'ufficio di Iole Santelli, ma ogni stanza, ogni salone, ogni scala, sottoscala o ascensore è Iole Santelli. E questa per noi era molto importante. Abbiamo condiviso chiaramente questa decisione con il Consiglio regionale, con il Presidente del Consiglio regionale e con tutti i calabresi e con tutti coloro i quali in questi giorni ci hanno affettuosamente inondato di questa richiesta, ma era già una decisione che avevamo assolutamente fatto nostra dai primi istanti. Non si sentirà, certo si sentirà una forte mancanza, perché Iole non è personalmente e fisicamente qui con noi, ma non si sentirà la mancanza di quella meravigliosa atmosfera, di quell'area così libera, così amica, così affettuosa che Iole ha portato dentro la politica, dentro le istituzioni, nel cuore di tutte le case dei calabresi, perché Iole ha amato e ama la sua Calabria, ma ama e ha amato tanto i calabresi. Questo i calabresi l'hanno sentito perché l'hanno accolta in queste ultime giornate di suo passaggio su questa terra con un amore immenso e credo che anche, soprattutto fuori dalla Calabria, è arrivato anche questo, anche fuori dalla Calabria, le istituzioni ai massimi livelli, dal Presidente Mattarella al Presidente Conte, i Presidenti dei Camere e Senato, i Ministri, i senatori e i deputati che sono intervenuti ai funerali in forma privata e in forma pubblica, insomma tutti i sindaci che l'hanno omaggiata con la loro presenza. È stato un momento incredibile, tanti calabresi che sono venuti a salutarla meritavano che fossero tempi brevi quelli della titolazione di questo palazzo. Finalmente non sarà solo una cittadella, ma sarà la cittadella regionale Iole Santelli. Noi ne siamo orgogliosi, fieri e siamo veramente felici di poter omaggiare con questo primo passo e gli ulteriori passi sono quelli di portare avanti i progetti che Iole ha messo in atto. In questo tempo che ci sarà consegnato fino alle prossime elezioni noi saremo sempre giunta Santelli, noi saremo sempre amministrazione Santelli a tutti i livelli.